Un ragazzo 28enne originario di Capaccio Pestumo mentre stava eseguendo dei lavori in uno stabile nella zona Prignano-Cilento ha perso l'equilibrio ed è caduto dopo un volo di 4 metri impattando violentamente sul terreno. Sul posto immediato l'intervento dell'unitaria animativa dell'Humanitas del Psaut di Agropoli che ha soccorso il giovane constatando diversi traumi su tutto il corpo, trauma cranico, addominale e toracico. Il 28enne ora è ricoverato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in prognosi riservata ma le sue condizioni cliniche non desterebbero preoccupazione.